Come è normale alla vigilia di un'elezione, tutta Padova è stata coinvolta dalla campagna elettorale, ma c'è una zona della città che è stata particolarmente battuta dai candidati. Questo è il cavalcavia a Borgomagno, quello che collega l'Arcella al resto di Padova. In questi mesi di campagna elettorale è stato attraversato innumerevoli volte da tutti i candidati sindaco. Noi abbiamo chiesto ai residenti dell'Arcella se non temano che una volta che le urne saranno chiuse, e questo cavalcavia, non sarà più trafficato come è stato in questi mesi. Dopo passato la festa che ha battuto il santo. Si viene qua per prendere voti perché l'Arcella è un terzo di Padova e quindi è un bacino di voti molto molto importante. E dopo quando è ora di risolvere i problemi fanno finta che non ci sono. I problemi nel quartiere non mancano come ci confermano i residenti. Si sta meno bene adesso, ho cambiato persino casa perché ero invaso da... La gente ha bisogno, si dice sicurezza, non sensazioni. La c'è l'insicurezza, affrontiamola insomma.